Olli si allena curando la mente, Benji si allena aiutando la mente Olli si allena, sembra una canzoncina così alla dato ma in realtà non è così, è un annuncio un annuncio importante perché il 30 di gennaio ci saranno delle selezioni selezioni per persone molto particolari perché quest'anno 2016 ad Osaka in Giappone verranno fatte le paraolimpiadi di calcio e per la prima volta i giocatori saranno dei pazienti con problemi di salute mentale per partecipare agli scrutini, per essere selezionati dovranno inviare tutti quelli che ne hanno voglia una mail, la mail è indirizzo calcio-salutementale-gmail.com entro e non oltre il 30 gennaio perché alle 10.30 di mattina al campo P11 qui a Roma ci saranno queste selezioni quindi chiunque conosce un parente o conosce l'ambiente di persone con disagi psichiatrici può partecipare mandando una mail all'indirizzo che vi ho appena dato è un'iniziativa molto importante e diamo una mano ad aiutare persone che purtroppo di aiuto ha bisogno ciao da Tato